È il giorno dei saluti, il Preside Matteo Croce lascia il Landolina dopo un periodo importante di lavoro di cui si vedono anche i frutti. È il momento anche per salutare le istituzioni, quelle istituzioni che sono state a fianco di Matteo Croce e Matteo Croce è stato a fianco di queste istituzioni. Una sinergia importante per Miss Ilmeri che aveva bisogno di legalità. Ebbene questi signori che sono accanto a me assieme hanno lavorato dal mio punto di vista per dare una svolta significativa a questo paese e ci sono riusciti. Parlo del maresciallo maggiore Giuseppe Bono che oggi è a Corleone, parlo della sindaco Rosalia Stadarelli e parlo appunto di Matteo Croce. Bene, è un momento importante, anche commovente, anche significativo e voglio passare la parola al sindaco Rosalia Stadarelli. Che dire, più che un momento di fine io mi auguro che questo sia un ulteriore inizio per il comune di Miss Ilmeri. Il lavoro che è stato svolto negli ultimi anni in sinergia, detto bene, in sinergia dell'arma dei carabinieri e in sinergia con l'istituzione scuola che è importantissimo, ha fatto sì che percorsi importanti venissero veramente messi da parte della cittadinanza in atto. Mi riferisco ai tanti progetti fatti all'interno della scuola, dal presso Landorina, alle tante operazioni fatte insieme ai carabinieri i quali sono stati sempre presenti nella nostra attività amministrativa e di questo io devo ringraziare il maresciallo Bono personalmente che ormai è andato via da Miss Ilmeri ma che è stato veramente una grande spalla per la nostra amministrazione perché non è vero e mi dispiace quando alcuni colleghi o alcuni cittadini vedono questa istituzione come nemici, come persone da tenere lontani, meglio che loro non sappiano. Invece se loro sanno solo in quel momento ci possono aiutare. Io devo ringraziarli personalmente per questi quattro anni in cui io sono stata sindaco di Miss Ilmeri e il maresciallo Bono ha seguito le operazioni, ha coordinato le operazioni dei carabinieri di Miss Ilmeri. La stessa cosa devo fare immancabilmente col dirigente scolastico del circolo Landolina che ha ridato ed è sotto gli occhi di tutti, non è una sviolinata che voglio fare qua perché lui è presente o perché sto rilasciando un'intervista, ma ritengo che sia sotto gli occhi di tutti il lavoro che è stato svolto all'interno del circolo Landolina. Chiunque è di Miss Ilmeri sa che il Landolina era una scuola di periferia e dico sfido chiunque a darmi torto in questo momento. Oggi il circolo Landolina è uno, l'unico circolo in cui si fanno delle attività oltre la didattica che servono sicuramente i nostri figli per capire cosa offre oggi la società e ritengo che il professore Matteo Croce è riuscito a sensibilizzare non solo i nostri figli ma anche le famiglie, i genitori che seguono i nostri figli perché le sue attività erano da collante, da rete e da collaborazione per l'intera società di Miss Ilmeri e per questo in qualità di sindaco e rappresentante dei cittadini di Miss Ilmeri oggi mi trovo qua a ringraziare due grandi pilastri che nel periodo in cui io sto facendo il sindaco sono riusciti insieme a me a lasciare un segnale e credo che i cittadini di Miss Ilmeri difficilmente dimenticheranno un segnale di svolta in questo comune e io personalmente ringrazio quindi il maresciallo Buono per le istituzioni, per i carabinieri e il professore Matteo Croce per quello che ha lasciato ai nostri figli e per il segno evidente sotto gli occhi di tutti della rinascita di questo circolo. Grazie infinite. Grazie Signora. Anch'io mi ha mostrato. Lasciamoci la corazza di ferro. Allora, che cosa sta provando in questo momento? Niente, dire tutto è niente. Io ovviamente lei ha avuto modo già di farmi dire delle parole e io non vorrei essere ripetitivo perché ho già detto tante cose, però lasciatemi ora che li ho qui accanto ringraziare veramente il sindaco, l'ho fatto poc'anzi, anche io non abbiamo bisogno di sviolinate. L'evidenza è palmare. Quando si svolge il proprio lavoro con passione e con senso dello Stato le risultanze sono evidenti. Lasciatemi ringraziare anche l'arma dei carabinieri. Cosa dirvi, l'arma dei carabinieri? Io sono stato cinque anni qua e ho avuto l'onore di avere, grazie ai buoni auspici ovviamente del maresciallo maggiore Giuseppe Bono che ora è andato a porgere il suo contributo a Corleone della sua grande professionalità e anche, lasciatemi salutare contestualmente anche i due capitani che si sono avvicendati per la compagnia e quindi il capitano Gullotta e oggi il capitano Tulli che anche esso sta per andare via, ma ovviamente come è normale che sia una scuola ha a che fare con la compagnia in generale perché abbiamo il piacere di averla sul territorio, ma in questo caso con la stazione dei carabinieri tipica la presenza in tutte le cittadine, quasi tutte le cittadine d'Italia e allora è nato questo rapporto veramente importante con il maresciallo capo Giuseppe Bono che mi onoro di dire è andato oltre quel rapporto professionale e è nata anche una sincera amicizia e stima che io porto nel cuore con grande passione e devo dire il fatto che sia andato via da questa cittadina e ovviamente mi ha rattristato sicuramente, è arrivato un altro grande professionista, voglio augurare al nuovo maresciallo maggiore anch'esso grandi successi come già li ha avuti nel passato sicuramente avrà modo di rinverdirli in questa cittadina e poi oltre il sindaco che è inutile raccontare le sue gesta perché lo conosciamo, è bravo, è uno capace, è in grado di mettersi in mezzo all'acqua a 80 centimetri quando c'è l'alluvione per cercare di sturare e dare manforte e quindi piangere pensando che alcuni suoi cittadini quel giorno potevano aver perso la vita, fortunatamente non è stato così e allora diciamo che questo è quello che l'Italia ha bisogno, ha bisogno di gente che con passione, con dedizione, con senso dello Stato fa il proprio mestiere e lasciatemi ringraziare in questo momento, voi non lo vedete ma dietro quella telecamera c'è il presidente del consiglio di questo istituto che ovviamente se io non avessi avuto la possibilità di collaborare con queste persone perché gli organi di una scuola, il collegio dei docenti, il consiglio di istituto e quant'altro, il personale non ci sarebbe stato alcun avanzamento, allora grazie a queste persone, a questi uomini, a queste donne che diciamo fanno da sostegno è stato possibile dare questo contributo, grazie Misilmeri, grazie maresciallo maggiore Giuseppe Bono, grazie signor sindaco e allora la palla a lei, la palla a me, e allora lei ha invitato oggi qui il maresciallo Bono visto che erano gli ultimi, le ultime ore del suo servizio a Misilmeri, perché lo abbiamo invitato? Io l'ho invitato perché oltre il fatto che mi piace salutarlo perché siccome è già andato via però io ho, siccome è una persona molto, molto umile e molto semplice, determinata è molto seria, ma questo è fuori dubbio, e allora devo dire io amo in particolare i uomini di chiesa, i grandi uomini di chiesa e quindi uno dei grandi rappresentanti che amo particolarmente, ho avuto il piacere anche di scrivere un'opera proprio a Giovanni Paolo II dal titolo Il mondo può cambiare e ho preso una frase proprio per la sua umiltà che ha sempre rivolti. Allora come dirigente dell'Andolina, ricordando legalità e buone pratiche in questi cinque anni che grazie al Corpo dell'Arma dei Carabinieri che ci ha donato questi concerti della fanfara ogni anno che sono diventati l'emblema insieme anche all'Arma dei Bersaglieri, al Corpo dei Bersaglieri, all'Esercito della Brigata Osta, ma soprattutto grazie alla fanfara lasciatemi salutare il maresciallo capo Sena, il grande direttore, ma sempre grazie ai vostri buoni auspici. Allora ho utilizzato per accommodarmi da lei maresciallo Maggiore una frase che è molto umile, semplice, ma credo che sia rappresentativa della sua grande personalità. Se mi consente la leggo e dice esattamente se vi diranno che non siete abbastanza, fra virgolette, non fatevi ingannare, siete molto meglio di quello che vi vogliono far credere. Papa Giovanni Paolo II, caro Luitivo, io le voglio dare con grande stima e deferenza questa targa che per me rappresenta un uomo che è stato sempre pancia a terra a svolgere il proprio mestiere, la propria professione e ha dato tanto a questa comunità. E allora ho il piacere oggi di consegnarla a nome della comunità dell'Andolina prima di andare via, perché mi fa piacere che lei mi porti in serbo ora nel suo nuovo, diciamo, dislocamento il ricordo di questa comunità a cui lei ha già dato tanto. Grazie. Grazie a nome dell'arma dei carabinieri. Grazie al maresciallo Bono che oggi è venuto a farci visita. Tra l'altro giorno 3 di settembre, una data importante, perché ricorre l'anniversario purtroppo dell'uccisione del generale dalla Chiesa, noi a Misilmeri abbiamo organizzato un piccolo evento dove ci sarà qualche sorpresa. Quindi grazie al maresciallo Bono, grazie a prese. Invitiamo la cittadinanza. Invitiamo la cittadinanza, invitiamo le associazioni, il sindaco già è stato invitato, tutti quelli che vogliono aderire saremo alla scuola Traina di Misilmeri, via Fiume, alle 11, quasi alle 11, presso quella scuola appunto per celebrare, per salutare il capitano Tulli e il maresciallo Ebono che già è a Corleone. Il professore Croce lo saluteremo poi come preside del Danilo Dolzi. Invece io colgo l'occasione se il maresciallo Capo mi dà mandato di poter assolvere questo compito, anche in questo, ovviamente è chiaro che sono estremamente felice della presenza del Presidente del Consiglio dell'Istituto che ovviamente rappresenta in questo momento una parte importante, il signor sindaco e allora anche a nome della scuola, dato che il capitano si trova fuori per impegni importanti, io avevo chiesto se fosse stato possibile anche perché oggi termina il mio mandato ufficiale e quindi i miei poteri di dirigente della scuola perché poi passerò. Allora mi permetto di dare a lei, se mi dà l'opportunità, questa targa per il capitano Tulli, che ovviamente magari, sicuramente poi risaluterò al momento in cui avrò un modo di vederlo, giorno 3, e anche qui ho utilizzato una bella frase di un'altra religiosa che ritengo essere una delle fondamenta del nostro percorso cristiano, della secolarizzazione e quindi al capitano Tulli dice esattamente così, la vita è un eco, ciò che tu doni ti ritorna, ciò che tu semini lo raccogli, ciò che tu dai lo ricevi e quello che vedi negli altri esistenti, madre Teresa di Calcutta. Quindi io mi permetto così di... Questo inquadriamo meglio la targa. Bene, allora, un saluto Presidente, è stato bellissimo lavorare con lei, ci rivedremo col Sindaco, ci rivedremo anche con il Marcello Bono giorno 3. Un grazie per quello che ha fatto, io già gliel'ho detto nella precedente intervista. L'arma... E poi potete essere invitati alla prossima, a maggio, se avranno voglia di organizzare di nuovo la manifestazione a cui noi tanto teniamo e faremo di tutto, anche se non rappresenteremo più le istituzioni in quel momento. Assolutamente. Daremo vita anche da cittadini sicuramente a quell'appuntamento importante. Io lo sto prendendo come impegno. Assolutamente d'accordo, lasciatemi ora salutare in maniera gentile una bella signora amministratrice e le vorrei dare un bacio di saluto. Grazie Sindaco per... Come lasciarlo Bono lo bacia pure. Assolutamente, perché è un grande amico. Bene, abbiamo voluto... Lasciatemi salutare il nostro... Prenda la telecamera un minuto e mi faccia salutare il mio Presidente così... Con Matteo Croce le sorprese sono... E lo sa, però io non posso non salutare, quindi voglio ringraziare... Abbiamo iniziato insieme, finiamo insieme, perché adesso non sarò più Presidente in quanto è decaduto. È stato un bel percorso, un percorso con il Sindaco, con il Presidente, con le forze dell'ordine e con l'ordine costituito per il bene dei misi in meri, anche se non abbiamo delle cariche e anche se un domani non avremo più delle cariche istituzionali. Non ha importanza. Noi siamo sempre cittadini misi in meri e ci spenderemo sempre. Grazie, grazie misi in meri, grazie Sindaco e grazie a tutti. Grazie a tutti.